Musica Entriamo nell'argomento di quest'oggi, la scuola e il ritorno all'anno scolastico, all'anno accademico e iniziamo a parlare con il primo ospite di questo pomeriggio insieme presentiamo il Rettore dell'Università Nicolò Cusano Fabio Fortuna Buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi Ben trovato Rettore, è un onore averla qui in trasmissione Esagerata Giochiamo in casa con lei Rettore, parliamo dell'inizio del nuovo anno scolastico abbiamo detto che ci siamo lasciati alle spalle due anni in cui rispetto alla scuola al tema legato alla scuola si è parlato di tutto tranne che della didattica ed è un peccato perché abbiamo perso di vista l'obiettivo principale secondo lei quest'anno che anno sarà? Ci vorrebbe una sfera di cristallo per dire esattamente ciò che avverrà intanto abbiamo alcune certezze che la scuola sta per ricominciare con un clima di regolarità riacquisito perché tutte le norme anti covid tranne che per i fragili vengono meno quindi ci sono i presupposti per andare avanti con i giusti ritmi parte la scuola perché ovviamente il calendario scolastico è differente da regione a regione parte per primo l'Alto Adige il 5 settembre per ultime Sicilia e Val d'Aosta il 19 e tra il 12 e il 15 settembre tutte le altre per cui per esempio l'Abruzzo il 12, il Lazio il 15 quindi siamo proprio di fronte all'inizio vero e proprio dell'anno scolastico e questo soltanto come avviene sempre anche in tempi prepandemici lo svolgimento ci dirà poi se si riesce ad andare avanti nel modo giusto al di là dell'evento covid perché purtroppo l'inizio dell'anno scolastico è sempre caratterizzato da un po' di difficoltà mancano alcuni professori perché ci sono delle procedure di nomina abbastanza laburiose perché ci sono concorsi che si sono espletati perché c'è personale che è andato in pensione quindi le motivazioni sono molte però purtroppo questo problema non si riesce a risolvere nonostante le rassicurazioni del Ministero sembra che ancora non ci sia la certezza anzi prevalga l'incertezza sul fatto che i docenti siano tutti nominati e funzionanti soprattutto quelli di sostegno queste sono le notizie che ho letto negli ultimi tempi anche perché giustamente mi avete presentato come rettore perché questo ormai da anni è il mio ruolo ma io ho insegnato per una ventina d'anni nelle scuole secondarie di secondo grado quindi la scuola per me è un terreno assolutamente esplorato conosco al pari dell'università e non a caso mi avete invitato a parlare di scuola e non di università o quantomeno via complementare e sussidiaria ma infatti rettore noi l'abbiamo invitata per raccontare cercare di capire che anno scolastico sarà anche e soprattutto alla luce della sua esperienza lei conosce molto bene la scuola e i cambiamenti legati alla scuola ho introdotto la nostra intervista dicendo che ultimamente si parla di tutto tranne che del tema di cui si dovrebbe parlare cioè la didattica, le lezioni, la situazione della scuola insomma questa scuola è diventata sempre di più un'azienda mi riferisco anche e soprattutto alla scuola pubblica al sistema scolastico pubblico negli anni sono cambiate tante cose rettore come era la scuola tempo fa e come è diventata? è migliorata o è peggiorata secondo lei? ormai qualche anno è passato purtroppo io ormai ho qualche decennio prima come studente poi come giovane professore ho cominciato a insegnare a 20 anni quindi insomma ne sono passati molti e ho visto molte trasformazioni che derivano da un cambiamento generale che si ha in funzione del passare del tempo il progresso, l'innovazione incidono anche sulla scuola, sulla formazione e allora secondo me la ricetta vincente è trovare il giusto mix la giusta combinazione tra tradizione e innovazione mi spiego meglio c'è un po' la mania negli ultimi anni di modernizzare il sistema scolastico tentando anche di cancellare cose buone che tradizionalmente hanno sempre funzionato e che devono continuare a esistere in un sistema scolastico che funzioni bene perché non è detto che tutto ciò che è vecchio sia sbagliato e tutto ciò che è nuovo portando innovazione sia invece funcente quindi l'adeguamento deve essere graduale portato avanti sapientemente e con attenzione naturalmente misurandosi con un problema che è quello adeguato a cambiamenti generazionali attenzione le generazioni uno dei miei motti che voi avrete sentito tante volte anche nelle inaugurazioni dell'anno accademico è che non esiste una generazione migliore o peggiore delle precedenti sono differenti perché si muovono in contesti che mutano e mutano sempre più velocemente allora la scuola deve tenere conto che i ragazzi oggi hanno esigenze differenti tutte le fasce di vita a partire dalla scuola primaria per andare alla scuola secondaria di primo grado di secondo grado poi all'università il mondo è cambiato quindi l'innovazione deve andare avanti la didattica però e alcuni aspetti tradizionali della didattica non possono essere soppertiti non possono scomparire la lingua italiana che voi sapete è un mio pallino che ritengo che sia il biglietto da visita personale e professionale di ciascun individuo oggi affiancato da una buona ottima conoscenza anche la lingua inglese perché negli ultimi decenni è diventato fondamentale ma la lingua italiana ha una sua importanza e i canoni della lingua italiana che alcune volte oggi forse non vengono accuratamente rispettati la grammatica la sintassi lo vediamo anche io spesso nelle mie interviste radiofoniche e televisive che svolgo con altri soggetti mi accorgo di quanto la lingua italiana non abbia più la cura che un tempo aveva e questo non va bene non va assolutamente bene e dovrebbe essere un discorso trasversale in ogni tipo di scuola dai licei agli istituti tecnici agli istituti professionali e via dicendo quindi la scuola deve innovarsi mantenere aspetti tradizionali essere centrata sulla didattica con bene in mente un concetto a me molto caro la centralità dello studente ma non a chiacchiere lo studente deve essere centrale l'altra mia fissazione una cosa molto banale che molti spesso dimenticano le scuole le università non esisterebbero se non ci fossero gli studenti e allora lo studente deve essere al centro il professore il docente deve accompagnare lo studente nelle varie fasi della sua formazione è fondamentale con passione e se non c'è la passione con professionalità perché il ruolo del docente la didattica l'insegnamento se non vengono da passione quantomeno devono essere accompagnati da professionalità questa deve essere la didattica certamente il covid ha messo in pericolo queste cose senta rettore lei mi ha colpito molto quello che lei ha detto in merito a secondo lei la scuola deve essere un mix di progresso innovazione e tradizione e allo stesso tempo deve tener conto anche delle esigenze differenti dei studenti e anche diciamo un po' dei come i ragazzi come dai bambini i ragazzi stanno cambiando però io tempo fa parlavo con con ragazzi che ancora vanno a scuola ancora vanno al liceo e notavo una differenza netta rispetto a quando magari dieci anni fa quindici anni fa andavo io a scuola quando ho lasciato io il liceo una cosa che a me ha stupito molto è il fatto della riduzione dell'orario di alcune materie per esempio a me ha stupito il fatto che ormai educazione fisica quindi la vecchia ginnastica sia ridotta a un'ora sola a settimana e in una società in cui ormai il livello di sovrappeso è molto alto secondo me l'istruzione alla ginnastica l'educazione come era educazione fisica come viene chiamata è molto importante sì ma l'educazione fisica io posso andare un po' più indietro nel tempo rispetto a lei ma l'educazione fisica ha sempre avuto un ruolo marginale nella scuola italiana perché? perché mancano le strutture qui viene fuori un problema l'edilizia scolastica le strutture in cui si può svolgere l'attività didattica gli spazi e tutte quelle strutture che servono per fare educazione fisica quindi a parte il monte orario indubbiamente insufficiente ma anche prima non è che ci fosse tutta questa possibilità e poi qualche decennio fa ci si arrangiava di più non esisteva la sofisticazione che oggi c'è anche nell'ambito dello sport positiva io sono sempre stato nello sportivo ho fatto attività agonistica per tanti anni quindi so bene cosa voglia dire fare attività però ci si arrangiava noi mi ricordo quando ero studente facevamo educazione fisica ci appoggiavamo a un'altra scuola perché da noi non c'erano gli spazi un po' ci si muoveva poi non è che si facesse più di tanto quindi c'è proprio su questo discorso un si innesta una problematica strutturale che però in questo momento almeno nello specifico dell'educazione fisica rispetto a tanti altri problemi che sono sorti col covid forse è un problema minore perché poi a differenza del passato lei dice dieci anni fa già la cosa era cambiata ma fino a venti trent'anni fa ma non è che tutti avevamo la possibilità di essere accompagnati a fare nuoto tennis calcio e altri sport oggi vediamo che i bambini fin dalla più tenera età vengono abituati allo sport quindi hanno almeno la possibilità di sostituire a ciò che la scuola dovrebbe dare anche in questi termini ma non in termini completi questo non sarà mai possibile possono sostituirlo in modi che noi non potremmo avere quindi c'è stato qualche progresso il ridimensionamento e la scarsità del monte orario però poi è vera e si ricollega però un problema strutturale che ancora non è stato risolto l'inizio scolastica e le strutture scolastiche in Italia ancora sono molto deficitarie sì è vero un problema strutturale amministrativo e organizzativo per questo le dicevo all'inizio della nostra chiacchierata rettore la scuola è molto cambiata dovrebbe essere un esempio lei ha parlato dell'introduzione delle tecnologie e anche rispetto al tema delle tecnologie non possiamo dire che la scuola è esemplare la didattica a distanza è stato un fallimento in questo senso e tutto questo dimostra che il sistema scolastico non segue e non risponde adeguatamente alle novità tecnologiche e ai cambiamenti del sistema sociale ha parlato anche dell'importanza della centralità degli studenti altro tema importantissimo anche questo è un problema si parla di tutto tranne che dei ragazzi tranne che degli studenti di chi segue i ragazzi e tutto questo dimostra che insomma la scuola ha molti altri problemi da risolvere di cui occuparsi tra cui anche quello sportivo ma insomma credo anch'io che sia uno degli ultimi problemi anch'io quando andavo a scuola non facevo sport per inciso c'era l'ora di sport educazione fisica io ho lasciato finito il liceo 10-12 anni fa quando io andavo a scuola c'era il professore in ginnastica era proprio un professore che si era diplomato laureato adesso è l'insegnante di matematica di italiano di filosofia è un sostituto non è laureato in ginnastica e ovviamente non è giusto non è sempre così Lorenzo diciamo può succedere ma insegnanti di educazione fisica esistono come esistevano sì sì certo ci sono ma magari rispetto però sono limitati dai fatti che abbiamo esposto ma poi in realtà il ruolo del docente si è evoluto col tempo perché il docente oggi ha maggiori difficoltà ecco perché deve avere più passione i studenti si sono più distratti noi adesso vado indietro nel tempo ma quando io ero studente oppure anche fino a vent'anni fa beh non c'erano tutte le distrazioni che ci sono oggi stavi a casa non avevi migliardi di canali da vedere in televisione oggi lo studente è più distratto allora bisogna anche avere la capacità di attrarlo verso lo studio perché lo studio è una cosa molto faticosa questo è un altro mio pallino e Anna Lisa che mi conosce da più tempo me lo ha sentito spesso praticare su questo lo studio si riuscì maggior fatica rispetto al lavoro non c'è dubbio studiare è una fatica e poi lo studio ha un inconveniente i veri frutti dello studio si vedono diluiti nel tempo e si vedono soprattutto a distanza di tanti anni io ho sempre avuto un andamento scolastico brillante però anche se avevo la passione di insegnamento da sempre forse non pensavo poi di riuscire a raggiungere i risultati che ho raggiunto li ho raggiunti in tanti anni ho studiato tanto studio tuttora però è una grande fatica e oggi le nuove generazioni che hanno tanti pregi e tante virtù rispetto a quelle precedenti hanno una maggiore difficoltà al sacrificio questo sostantivo purtroppo non è ben accetto perché il sacrificio lo dice i ragazzi sono più impegnativi oggi rettore lei continua a studiare perché è interessato ai libri che legge alle materie che studia spesso a vent'anni non si ha la maturità la maturità giusta per studiare ecco adeguatamente ma diciamo anche che dipende molto dal contesto in cui si cresce dalla società in cui si cresce oggi io spesso e lo dico agli studenti anche quando ancora faccio orientamento pur essendo lettore ma insomma mi capita e dico sempre agli studenti non ascoltate chi dice che cosa ti lauree a fare tanto poi il lavoro non lo trovi perché questo è deleterio significa far perdere allo studente l'amore per lo studio non dico l'amore perché insomma è una parola grossa ma la passione è una parola ancora grossa l'attenzione allo studio ma io studio e ho sempre studiato perché gradualmente ho visto i risultati non ti regala niente nessuno nella vita e quindi tu vali in funzione di ciò che hai studiato ecco lo studio è un veicolo importante decisivo nella vita sia personale che professionale certo è un grande sacrificio e questo non bisogna anche gli adulti quando erroneamente dicono ai figli o ai giovani eh ma tu studi come se non facessero niente no molto più fatica a studiare che a lavorare soltanto che poi purtroppo lo studio i veri risultati che non sono quelli di prendere 30 o 100 lode all'esame di stato quello è un grande risultato ma i veri risultati si vedono dopo 10-15 anni quando tu hai avviato con lo studio un percorso che poi ti ha consentito di avere successo e di realizzare le tue ambizioni e le tue aspettative il sistema scolastico la centralità degli studenti l'università Nicolò Cusano è molto attenta agli studenti fin dall'ingresso qui nel nostro Ateneo Rettore lei rappresenta la nostra università non siamo solo attenti ai ragazzi ma siamo attenti anche al futuro dei ragazzi lei ha toccato il tasto tecnologia centralità degli studenti e poi lavoro anche questo è un aspetto di cui la scuola dovrebbe occuparsi e preoccuparsi tanti ragazzi lasciano la scuola e dimenticano se stessi e non sanno cosa vogliono fare si abbandonano ad un sistema che non è meritocratico e che non invoglia a fare a fare in generale invece noi diamo una mano ai nostri studenti a crescere in un certo modo bisogna dirlo Rettore sì va bene ma non potrebbe essere altro perché io sicuramente ho tanti difetti però non predico bene il razzo allo male cioè le cose che sto dicendo essendo stato il primo professore a fare ingresso in questa università vedendola nascere crescere anche al di là delle mie più ottimistiche previsioni noi abbiamo portato avanti un lavoro nella didattica e nella ricerca pregevole nell'ultima valutazione della qualità della ricerca che è fatta dall'organo di competenza cioè dall'ANVUR l'organismo di controllo del sistema universitario noi abbiamo ricevuto risultati abbiamo ottenuto risultati brillanti addirittura primi per quanto riguarda l'ingegneria industriale in tutta Italia siamo arrivati abbiamo preceduto realtà istituzionalmente secolari università di prestigio assoluto e questo per noi è stato motivo di grandissima soddisfazione perché anche nell'ambito universitario didattica e ricerca devono andare di pari passo la ricerca è fondamentale e caratterizza il contesto universitario ma alla didattica bisogna l'attenzione dello studente e alla centralità dello studente bisogna rivolgere la medesima attenzione è quello che con semplicità noi cerchiamo di fare per mia volontà è volontà di tutto il sistema universitario della nostra università di tutti gli organi di governo del presidente del consiglio di amministrazione signor Bandecchi è una volontà comune che ci ha sempre contraddistinto e poi ci ha portato a dei risultati importanti sia nel campo della didattica che nel campo della ricerca senta rettore il fatto che l'università Nicolò Cusano punta molto sui giovani è sotto gli occhi di tutti poi comunque l'università Nicolò Cusano lancia anche diversi progetti rivolti ai giovani sia per diciamo negli anni in cui studiano qua ma anche per quando escono tra gli ultimi progetti che l'università Nicolò Cusano ha lanciato non posso non citare il progetto Università Libertatis se ce ne può parlare così magari anche gli ascoltano però oggi è più dedicata alla scuola non vorrei che si trasformasse in generale in una esaltazione autoreferenziale dell'università va bene continuiamo a parlare della scuola stiamo dicendo però la verità sì d'accordo però oggi diciamo che ci stiamo avvicinando all'inizio dell'anno scolato la formazione e allora magari diciamo anche a proposito della scuola e della formazione che in Italia dobbiamo mutare l'orientamento e questo deriva anche da noi adulti perché nelle famiglie si è sempre inclini a spingere verso i licei i propri figli ma in realtà alcuni hanno talenti differenti quindi magari hanno più inclinazione verso lavori manuali verso gli istituti professionali verso gli istituti tecnici l'instituzione tecnica e professionale negli ultimi anni è stata persa totalmente di vista avete sentito che c'è un rilancio notevole degli istituti tecnici superiori che si sono un po' trasformati per effetto delle ultime normative e con i fondi del PNRR e di questo recovery importante in tanti settori noi dovremo riuscire a modificare il nostro discorso formativo adeguarla ai tempi perché le imprese dice sempre che il lavoro manca ma le imprese cercano operai specializzati cercano un personale che abbia determinate caratteristiche e non lo trovano quindi questo è un problema che va affrontato e la formazione ancora prima di quella universitaria quella della scuola è importante soprattutto perché deve creare anche queste figure ciascuno deve utilizzare il proprio talento non è detto che tutti debbano essere laureati di studiare tutta la vita per cui se uno ha una differente inclinazione poi non è come una volta se si fa un diploma tipo l'istituto tecnico o l'istituto professionale si accede ugualmente all'università non è come 40-50 anni fa che era possibile accedere per esempio a lettere avendo fatto l'istituto tecnico così funzionava oggi non è più così quindi ci sono più possibilità più opportunità certo certo assolutamente però la formazione deve essere migliorata e vedremo quello che succederà intanto iniziamo quest'anno scolastico un'altra volta parleremo maggiormente di università però oggi rimaniamo concentrati sulla scuola e ricollegandomi al discorso che facevamo all'inizio mi auguro che sia un anno scolastico tranquillo in cui non ci sia bisogno di ricorrere alla didattica a distanza però la didattica a distanza non va nemmeno demonizzata cioè attenzione perché si va sempre da un estremo all'altro la didattica a distanza è stata importante poi mancavano come diceva Annalisa le strutture per farlo mancavano i supporti tecnologici ora le risorse del PNRL dovrebbero consentirci di dare dei buoni collegamenti alle scuole di migliorare anche gli impianti di hardware e software quindi se necessario speriamo di no ma la didattica a distanza un pochettino potrà servire poi se non serve va bene secondo me il rettore bisognerebbe creare un buon equilibrio tra didattica in presenza e didattica a distanza ci sono delle lezioni che si possono anche fare a distanza o degli incontri con i docenti cioè essere assolutisti secondo me non paga non fa bene a nessuno quindi non paga diciamo che le lezioni frontali nei primi livelli di istruzione sono fondamentali però non è detto che un minimo di complementarità con l'attività a distanza non possa esistere soprattutto comunque gli istituti le scuole la pandemia ce lo deve insegnare devono essere pronti anche a sviluppare attività a distanza se necessario va demonizzata ho in casa un insegnante Annalisa perché mia mamma è maestra mia mamma è maestra diciamo alle scuole elementari quindi comunque io ho assistito a scene durante il lockdown di quasi due anni fa dove non c'era internet no ma veramente veramente assurde cioè come ha detto benissimo il rettore le scuole e le università devono devono essere pronti alla DAD e due anni fa non eravamo pronti cioè io assistivo a scene sia con i ragazzi con i bambini ma anche con i famosi colloqui con i genitori ma questa non è una giustificazione Lorenzo perché i computer in casa esistono la rete esistono esiste internet viene utilizzato tutti i giorni da tutti allora c'è l'emergenza ho detto ma siamo nel 2020 perché due anni fa ho detto siamo nel 2020 appunto non è una giustificazione è stata una situazione di emergenza che però ha dimostrato che non eravamo pronti a gestire il problema non c'è dubbio e poi ha messo in evidenza anche le differenze tra le varie zone territoriali come al solito al nord più pronti al centro un po' meno al sud direi la situazione è stata in alcuni casi veramente drammatica qui vengono fuori tanti altri problemi legati all'annosa secolare questione meridionale ma insomma andremmo anche a toccare altri campi insomma viva la scuola però concluderei questo incontro con voi proprio su questo discorso viva la scuola la scuola in Italia comunque non funziona poi così male perché è vero che spesso i nostri giovani devono andare all'estero ma poi quando vanno lì sono i migliori quindi vuol dire che non fa schifo la scuola italiana certamente va migliorata sicuramente attraverso i mezzi del PNRR se coloro che governano sapranno andare avanti nel modo giusto si possono fare tante cose per la scuola rilanciarla non vedere quelle scuole che ancora vediamo in condizioni disastrose sotto il profilo strutturale perché anche l'ambiente in cui poi gli studenti si trovano a studiare è importante lo vediamo quindi chiamo la nostra realtà quanto siano soridenti gli studenti che girano nel nostro campus perché c'è un ambiente confortevole non è detto che potrebbe dare l'università privata ma potrebbe dare tutte le università pubbliche e le scuole vale lo stesso discorso e anche le scuole superiori rettore dimenticare gli studenti abbandonare gli studenti a se stessi è un peccato anche perché c'è la questione dell'abbandono scolastico che è un altro grave problema di cui la scuola dovrebbe occuparsi ed è forse il più grande fallimento del sistema scolastico grazie appuntamento alla prossima alla prossima rettore buona giornata buon lavoro grazie a voi buon proseguimento buon weekend buon ragazzo buon choke buon avapentamento buon aver guardato